C'erano una volta due bambine che vivevano in una casa. Papà, sei tornato! Sei così bella. Resta così per sempre. Ehi, Will, vieni a vedere. Guarda, chissà dove sono ora. Tesoro, ti senti bene? Che cosa ti spaventa? C'è qualcosa là fuori. Là! Che state facendo qui? Abitate qui e non sapete degli omicidi. Quali omicidi? Tutta la famiglia è stata uccisa, il padre è sopravvissuto. Chi è stato? I sospetti caddero sul padre. Peter Ward, la casa del massacro. Tutti quelli che abitano in questa casa vengono uccisi. Perché i vicini non ci hanno detto niente? La casa è rimasta vuota per tanto tempo. Dovrei parlare con lei di uno dei vostri pazienti, Peter Ward. Assicuriamoci di parlare dello stesso uomo. Quello non è Peter Ward. Quello sono io. Sei stato in quest'istituto per cinque anni, Peter. No. Ti abbiamo dimesso sette giorni fa. Ti odio quando te ne vai. Guarda. Mi hanno detto che voi in realtà non siete qui. Cosa? Tu e le bambine siete morte. Sono stato io? No. Che cosa ti ricordi? Ho lasciato mia moglie e le mie figlie a casa stamattina. Chi è alla porta? C'è qualcosa di strano in questa casa. Non puoi restare lì. Ti ucciderò. Peter Ward è tornato! C'erano una volta due bambine che vivevano in una casa. Cosa? 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 ... Cosa? Cosa?